Buonasera, buonasera a voi. Allora, il direttore del Il Tempo, Franco Bechis, ci rende edotti di una notizia che ritengo assai importante, oserei quasi dire inquietante. Dovete sapere che qualche mese fa il Tar del Lazio aveva imposto al governo di rendere pubblici cinque verbali del comitato scientifico. Ma Giuseppe Conte si era opposto, aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato affinché questi cinque verbali fossero segretati. Ora, Giuseppe Conte è colui che ci ha sempre parlato di essere una persona trasparente, è colui che ci ha sempre detto che avrebbe informato il popolo italiano sugli sviluppi della crisi. Però in questa circostanza, ripeto, ha ritenuto di segretare questi verbali. E così alcune testimonianze assolutamente attendibili dicono che l'abbia fatto perché aveva paura della reazione dell'opinione pubblica. Quindi probabilmente c'era qualcosa da nascondere, qualcosa che lui temeva ovviamente. E non è stato trasparente come lui invece ha sempre sottolineato in questi mesi. L'altra cosa che ci fa fare una riflessione è il fatto che ancora una volta tutti i poteri di questo paese stanno appoggiando il governo nelle loro azioni. L'abbiamo sempre detto, i giornalisti, la stampa, i magistrati, in questo caso addirittura il Consiglio di Stato. E' evidente ormai, evidente a tutti il disegno che c'è dietro da parte del governo italiano, quello di tenere all'oscuro sulle proprie gesta il popolo italiano, di poter continuare a fare decreti ed imporre la propria volontà al popolo italiano. E soprattutto di non permettere al popolo italiano alcuna reazione. E' tutto come vedete molto a catena, no? Il fatto di non rendere pubblici certi verbali, malgrado ci sia una indicazione, in questo caso del Tar del Lazio, di prorogare l'emergenza, prima dal 31 luglio poi al 15 di ottobre, e vedrete che l'obiettivo è di quello poi di prorogare ulteriormente l'emergenza, quello di mistificare e strumentalizzare sempre i risultati. Ogni qualvolta vengono date le notizie per quanto riguarda i dati giornalieri, se i dati rispetto alle giornate precedenti sono in rialzo, subito c'è l'allarme, subito si cerca appunto di strumentalizzare le cose. Mentre non si cerca mai, e questo è voluto ovviamente, di mettere in correlazione come sarebbe corretto il fatto del numero di tamponi con il numero dei casi positivi, perché è questo chiaramente il dato da tenere in considerazione. Ora, è evidente che avendo dalla sua parte tutti questi poteri, finora Giuseppe Conte ha avuto buon gioco. E vi posso assicurare che lui sta andando via molto tranquillamente, perché sa perfettamente che il popolo italiano ben difficilmente avrà una reazione forte, lui così si fa anche forza del fatto che i sondaggi continuano a darlo al primo posto, come il politico maggiormente appoggiato nelle sue azioni. Però è evidente che a questo punto dipende solamente da noi. Il passato ci insegna che prima o poi queste cose vengono fuori, e sicuramente anche questi verbali verranno a galla, ma è altrettanto evidente che questo però dipende anche molto da parte dell'opposizione, di come andranno le cose. Ora, se l'opposizione ancora una volta sarà silente, è chiaro che lui avrà gioco più facile. Se invece in Parlamento porteranno la questione e in particolare chiederanno spiegazione a Giuseppe Conte, le cose potrebbero andare diversamente. Resta sempre il fatto che però dipende da noi, dipende dal popolo italiano, ci stiamo preparando per l'autunno, anche se come avete visto troveremo un ulteriore ostacolo nella proroga al 15 di ottobre dell'emergenza. Ma come abbiamo detto in questi giorni, ormai dobbiamo andare oltre questo rischio. Questo non ci può e non ci deve più fermare, perché come vedete tutti i giorni escono delle novità importanti. Perché guardate, non è da sottovalutare il fatto che il Tar del Lazio imponga ad un governo di rendere pubblici dei verbali, e questo governo decide di non farlo e di fare così ricorso addirittura al Consiglio di Stato. Una cosa che ci fa davvero molto riflettere. Con questa notizia io vi lascio, vi auguro una buona serata e ci sentiamo domani.